Hi Warriors! What's up? Manimusasnati 1 e siamo nuovamente qui per un nuovo ed entusiasmatico video completare questa volta su Shadow of the Colossus! Yeah! Per il tredicesimo colosso! Dopodiché ne mancheranno solo altri debongo, grazie per farmi salire quando cazzo ti va, eh? Tranquillo, tranquillo! Quindi, dobbiamo andare a sconfiggere un colosso volante nel deserto da più o meno quello che ho preso da quello che va detto il tizio Dormin, come diavolo si chiama. Quindi suppongo sia un fottutissimo robo volante nel deserto. Yeah! E speriamo, come ho detto nello scorso video, che non sia come il colosso precedente perché quello mi ha dato veramente fastidio tantissimo. Veramente, veramente tanto. Quindi, sperando nel miglior colosso possibile, andiamo a vedere come cazzo raggiungere questo fottutissimo colosso di merda. Da qualche... Girando di qua? Forse? Devo andare da questa... Mi ricordo che c'era un deserto da qualche parte, però mi sembra fossi a nord. Ok. Ho un'altra domanda che mi stava, tipo, sorgendo nella mente, piano piano, eh. Non credo, ma volendo, se uno sa già dove si trovano tutti i colossi, può farli come cazzo gli pare? O tipo in un qualsiasi ordine? Ripeto, non credo assolutamente. Ma volendo, si può fare oppure no? Perché... Cazzo... Ora... Oh! Pongo! Ma per culo! Quindi... Oh, sì! Ok, ho visto. Lucerto, la per la stamina. Non mi serve. Non mi serve. Non ne ho presa neanche una. Figuratevi se... La inizio a prendere adesso. Quindi... È di là, quindi forse devo... Potrei riuscire a fare il giro, credo. Vediamo subito. Sono sciopito da lei. Vediamo se riesco ad attraversare qui. A fare il giro, giro tondo, giro tondino. E riuscirà... Ad arrivare alla zona desertica che mi serve. Ehi! Eppò! Eccola qui! Haha! Ok. Fantastico. Di qua. Dun-da-dun-da-dun-da-dinci-dinci-dinci-dunci-dun-da-d karşı-dinci-dzil. Oh, yes! Il deserto! Una delle cose più meravigliose del... No, non è vero, non è una delle cose più meravigliose del mondo, ma va bene comunque Quindi, dove? Qua? Oh, ok! Perché se non ti posizioni lì il colosso non uscirà mai! Oh! Devo sparare quelle sottospecie di sacche d'aria, giusto? Ok, bene, bene, spareremo a quelle sacche d'aria e lo porteremo giù Perché è questo quello che vogliono gli antichi dèi da noi Sparare a ste robe Ok, un'andata Prendiamo le altre Vai, Bongo! Yep! È tipo una sottospecie di... Robin Hood dei Dormin! Rubo ai colossi per dare ai Dormin! Yeah! Cosa non lo so, probabilmente è il mio stesso culo, ma... Vedremo Cazzo! Yep! Eh, 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 eh Dai, forza che ti manca tutti, vai, ciccio! Ah! Succede, non l'ho preso Cazzo! Yeah! Uh-huh! Ok! Ah... Ho fatto questo... Devo... Oh! Ok! Si è abbassato con le ali! Si è abbassato con le ali! Devo, immagino... Bon... Bon go! Entro today! Uh! Ok! Ah... Si! Certo! Eh, grazie, potato! Quando vuoi tu, eh! Quando vuoi! Possiamo iniziare a scalare! No? What the fuck? Perché è così malato, potato? Perché? Merda! Stavo cercando di vedere dove fosse un... Ok! Ok, trovato! Uno! Due! Ok! Oh! Battere! Ok! Ok! Uh! Cazzo! Cazzo! Ora, mira! Yep! Ehi! C'è ancora oppure... No, no, non c'è! Ok! Cazzo! Merda, 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 merda! Merda, merda! Uh! Reggiti! Reggiti, 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 reggiti! Ok! Questo è figo! Questo è figo! E non ho capito perché si è chiuso! Perché è uno... Stronzo di merda! Ecco perché! Perché è un duro di destronzo del cazzo! Potato! Alzati, cazzo! Ok! Vai! Eccolo che arriva! Eccolo che arriva! Dove? Ce la facciamo! Ok! Perfetto! Oh, dai! Questo è vicino! Questo è vicino! Questo è attaccato al tuo culo! Perfetto! E l'ultimo è lì dietro! Ehi! Yeppah! Ok! Preso, no? Sì! 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 Yeeey! Rifacciamo la stessa cosa di prima ora! Oh! Aspetta! Sei così gentile? Non me lo dire! Sei... Quasi così gentile! Vabbè, ma contenterò di queste qui davanti! Sempre che il testa di cazzo me le faccia afferrare! Ok! Uh! Cazzo! 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 Potato! Stai facendo tutto da solo, raga! Ok! Non lo so! Mi accontento solo di dire sì alle volte! Dai! Merda! Uno! Vai! Vai! What the f... Ok! Due! Vai! Tre! Ok! Come pensavo è finito! È finito! È finito! È finito! Cazzo! C-c-c-c-c-t Delle camera di... Ok! Dai! Dai! Arriva prima che si chiude! Arriva prima che si chiude! Non ce la farò mai! No! Si sta immergendo! Direi... Niente! Infatti ne manca uno... È l'ultimo! Sì! È l'ultimo! Ok! Bene! Perfetto! Direi che... Prima che si immerge ci possiamo anche buttare! Tipo... Ora! Ok! Woo! Bongo! Vieni! Vieni che mi serve il cazzo! Ok! Stessa cosa di prima! Yeppa! Robin Hood Beaches! Ok! Mamma mia! Tocca solo riattaccassi là sopra! Oh! Shit! Oh merda! 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 Merda di nuovo! Non qui di nuovo! Cazzo! Sali! 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 Sì! Cazzo! Vi ripeto! Io non sto facendo... Sto facendo tutto da solo! Oddio! Ok! Sali! Ok! Puoi solo salire... Hai qualche problema di... Sei spastico improvvisamente! Ok! Cazzo! Ok! Ce l'hai fatta! Ce l'hai fatta! Bravo! 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 Ok! Wow! Capite cosa vi dicevo nel precedente video quando intendevo controlli fatti a culo? Intendevo questo! Ok! Bebe! Chiediamo i giochi! Uno! Due! E ultimo! Mano ultimo! Yeee! Questo se lo siamo sbolognato molto prima dai! Ah! Yes! Yes! Oh! Ed è stato effettivamente abbastanza figo! Devo ammettere! Che cazzo! Niente male come titano! Che non riesco a capire perché la webcam stia laggando! Che cazzo ha oggi? Yeee! Non sci... Ok! Sono riuscito a bugare anche questo! Perché no? Oh cazzo! Non bughei perfetto tanto sti ultimi tempi che... Anche questo va bene, anche questo va abbastanza bene Ok E ho il singhiozzo Why? Shit Da cazzo Ok Fammi un sacco di singhiozzo Vedi non fa lo strozzo E io devo finire registrare Devo pure registrare Life is Strange Quindi vedi che devi da fare Oh Yeah 3, mancano 3 titani ragazzi 3 episodi abbiamo concluso Mi sa che dovrò fare un lavoro di montaggio con questo video Perché questa webcam sta laggando troppo Shit Dimmi Zanciccio Ok Ok Mentre gli altri erano pacifici e benevoli a quanto ho visto Quindi Ok Qual è il problema Ok Quindi Siamo Oh wow Ok Ok Non riesco a capire se è suzzo sul collo o è tipo No Credo che quelle sottospecie di Tentacoli neri Non li stiano facendo esattamente bene Quindi Yep Direi che sta andando male Zelda Se diventassi Se diventassi Darth Hener Faremo sesso comunque Non ti preoccupa Quindi Ah E se dovremmo anche danno la vada Perché i vestiti sono veramente zuzzi Quindi Mancano gli ultimi tre Boss Gli ultimi tre episodi di Shadow of the Colossus Dopodiché abbiamo effettivamente finito Tutta questa serie Detto questo Ditemi che cosa ne pensate di questo boss Dei precedenti E di tutto quanto Noi ci vediamo qui nel prossimo video Gameplay Sapete che ho il vostro Rex Dopodiché Ciao a tutti bro Oh yeah